Perché dicevo che il settore del cinema è un settore che si sposa molto col nostro modo di fare banca? Innanzitutto perché è un settore che può crescere moltissimo, è un settore ancora relativamente piccolo, è un settore dove il numero di produzioni è sicuramente molto più basso rispetto a quello che potrebbe essere, viste le capacità, le esperienze, le tradizioni, è un settore che ha un bellissimo indotto, è un settore che si porta dietro cultura, che si porta dietro tecnologia, che si porta dietro artigianato, arte. Quindi è un settore di quelli italiani fino in fondo, se lo sappiamo interpretare per bene. È un settore, come dicevo, di grande forza accumulata italiana, non sempre utilizzata al massimo, sicuramente sottoimpiegata rispetto a quello che potrebbe essere, è un settore di potenziale fortissima internazionalizzazione, che vuol dire sia nostra capacità imprenditoriale di andare a portare in giro per il mondo produzioni italiane, ma anche di rappresentare l'Italia degnamente in tutto il mondo.